Ciao a tutti, facciamo un'altra lezione su TSI, TSU, Social Network Pay. Allora, ecco come vi do altri consigli. Voi mettete un post, ok, questo l'ho appena messo. Poi vedete sotto ci sono i like e i commenti. C'è sempre qualcuno che chiama. Qui ci sono i support, ok? Perciò voi andate a guardare. Questo è un social network basato sull'altruismo. Perciò andate a vedere chi vi ha supportato. Poi andate su queste persone che vi hanno supportato e logicamente ricambiate il support, ok? Ve l'ho già fatto prima, poi ritornate indietro, ok? Andate su altre persone, come minimo gli darete i like a queste persone, ok? Date like su cose che vi interessano, eh? e fate supporto. Supporto vuol dire, come ho già anticipato negli altri video, supporto vuol dire guardare la pubblicità, ok? Ciao a tutti, al prossimo video.